Sapete qual è il bello di Viacolite? È che deve ancora uscire ma ogni volta divide il pubblico proprio a metà. Tant'è uscito il nuovo trailer in cui si vede finalmente la frusta laser di Vernestra Roe, quest'arma che secondo alcuni è eccezionali, secondo altri non ha senso di esistere in Star Wars. Io voglio esprimere la mia opinione puramente soggettiva, concordo con chi non piace l'arma. Ma perché neanche a me ha mai suscitato grande interesse la frusta in generale, che fa molto Indiana Jones. Tuttavia il fatto che non sia canonica, il fatto che non debba stare in Star Wars, o il fatto che la Disney abbia creato quest'arma soltanto per vendere ulteriore gadget, merchandise eccetera, e beh questo non ha senso, anche perché come dimostreremo in questo video, la frusta laser non solo esiste nell'attuale canon da decenni, ma in quello vecchio esiste ancora e ancora da più tempo. Pertanto non è nulla di nuovo, anzi è qualcosa che i fan di Star Wars conoscono fin da troppo tempo. Pertanto è vero che la Repubblica l'ha introdotta, la resa canonica, in un periodo storico in cui l'unica attualmente ad usarla è Vernestra Roe. Tuttavia ci sono molti altri clan, e non solo, che le utilizzavano da tanto tanto tempo, in una galassia lontana lontana. Ma oggi parleremo di questo, quindi la frusta laser ha senso oppure no? Scopritelo con me in questo video, ma come sempre io sono Emilio Valotti del canale YouTube Unbounce, lascio un bel mi piace, commenta qui sotto per lasciarmi un feedback e via con la sigla. La frusta laser, chiamata Light Whip o Laser Whip, non è altro che una spada laser modificata che di solito ha due opzioni, quindi può variare, può essere una normale arma come tutte le altre, oppure grazie a questi scudi flessibili che contengono il plasma, può ampliarsi, può diventare più lunga ed essere utilizzata anche per afferrare il nemico. Quindi è a tutti gli effetti una frusta. Tuttavia rispetto a una normale spada laser è molto più pericolosa, perché bisogna saperla gestire molto bene, c'è il rischio di ferirsi involontariamente. Inoltre è meno tagliente di un'arma normale, perché il fatto di prolungare così tanto attraverso dei contenitori di energia il plasma che c'è al suo interno rendono sì l'estensione più lunga, permettono sì di catturare l'avversario ad esempio, tuttavia ne perde il taglio, ne perde l'offensiva. Infatti veniva usata dai cavalieri Jedi, ad esempio Vernestraro, contro tecniche oscure, ma anche in tempi antichi contro i Sith, che usavano forme proibite con cui i Jedi riuscivano poco a contrastare, poco a tenergli testa. Quindi queste armi erano utilissimi per mantenere la pace e la giustizia, ma soprattutto per non infliggere danni letari ai nemici. Perché ricordiamolo che i Jedi non dovrebbero uccidere, dovrebbero usare la loro arma per proteggere e quindi la frusta effettivamente, facendo meno danni di una normale spada laser, la frusta laser serviva più a catturare, quindi a rendere inoffensivo il nemico piuttosto che a ucciderlo. E già qui siamo in tematica Star Wars. I Jedi teoricamente, se consideriamo cosa sono, cosa simboleggiano, cosa dice il loro codice, dovrebbero usare soltanto frusta laser. Tuttavia è stata introdotta, se vogliamo, nel nuovo canon attraverso Viacolite, di cui abbiamo visto il trailer ora durante la mitica frusta laser, ma nell'altra repubblica attraverso i romanzi del nuovo canone. Ma anche andando indietro in The Clone Wars, vediamo che l'impero zigeriano usa delle fruste che altro non sono che fruste laser. Se rivolgiamo, le guardie pretoriane di Snoke hanno delle fruste laser. Quindi non è una tecnologia così lontana da Star Wars. C'è sempre stata. Infatti, in realtà, nel Legends abbiamo le fruste laser da ben 39 anni. Quindi, io ripeto, non vi piace. Non piace neanche a me come idea. Ma il fatto di criticare la Disney perché ha introdotto queste spade laser è un po' qualcosa di fuori contesto. È giusto per andare, come sempre, ad attaccare qualcuno che non ha colpe, in effetti. Perché ci sta. Io capisco il fatto che non ci piacciono alcune cose. Ci sta a criticare alcune cose. Io sono il primo a criticarle. Però sempre con contesto, sempre in un'ottica obiettiva. Perché se esiste dall'85, quindi 39 anni fa, esiste da dopo la trilogia originale, da dopo Episodio 6, il ritorno dello Jedi. Quindi tempi ormai antichissimi in cui il pubblico, i fan veri, quelli che hanno sempre seguito anche Legends, lo ricordano. Io ricordo da bambino che giravano fumetti con la frusta laser. Io li leggevo e mi dicevo Ok, sì, non è il mio immaginario di Jedi. Non è l'arma che userei io. Ho preferito poi nel 99, quando è stata introdotta la doppia lama di Darth Maul, me ne sono innamorato. Ma anche lì ricordo, ragazzi, le critiche, la doppia lama, perché non doveva esistere. La spada di un cavaliere Jedi è soltanto quella blu o rossa di un Sith che vediamo nella trilogia originale. Nei prequel questa cosa era impensabile. Con Kylo Ren, quando è arrivata la spada a croce, anche quella non l'ho apprezzata particolarmente, perché non è sfruttata effettivamente lo sfiatatoio. Pensavo a livello difensivo di combattimento più sfruttato. Non è stato fatto, ma anche lì c'erano meme, critiche, la spada non si poteva vedere secondo alcuni. Per me è sempre una questione di utilizzo. Ovvero, la spada a croce di Kylo Ren, vista anche poi ad esempio in Rebels, non è mai stata usata tanto. Nell'altra Repubblica si è introdotto di nuovo questo concetto e si è sfruttato nei romanzi. Quindi è anche interessante finalmente. Tuttavia, la spada a croce nel film viene usata come un'arma normale. È impugnata un po' diversamente, l'attacco è leggermente differenziato, però di fatto che abbia lo sfattatoio o meno è una spada laser comune. Qui abbiamo visto nel trailer di Veacolite, il nuovo trailer, Vernestra Rho usare questa frusta. Dobbiamo vedere poi, a livello di action, di azione, se effettivamente sarà interessante o meno. Perché la doppia lama era interessante, quella di Darth Maul. Il suo combattimento utilizzandone in questo modo è comunque riuscito a dare un contesto forte, e quindi una simbologia forte e un'arma introdotta. E la differenza per me è sempre questa. Ad esempio, la frusta laser adesso non mi piace, perché anche leggendola o comunque tornando alla memoria dei fumetti di cui adesso vi parlerò, in cui apparve nel vecchio Legends, nel vecchio canone, e pensando la per quello che ho visto, non l'hanno mai sfruttata secondo il mio giudizio personale, secondo il mio piacere personale. Magari in Veacolite adesso la usano e vedo delle coreografie magnifiche che mi fanno pensare, ci sta, figa. Finalmente ecco che hanno usato un'idea che era un po' bozzata, che ci stava in Star Wars, ripeto, ma che non andava incontro al mio favore, ed ecco che invece sono riusciti a creare qualcosa attorno che la rendono iconografica, iconica, forte, effettivamente che può diventare un must in Star Wars. Tant'è nel Legends c'era il Sith Gitani, che usava un millennio prima della battaglia di Yavin, la frusta laser. E perché la utilizzava? Non tanto perché avesse piacere usarla, non tanto per sentirsi speciale, ma per una pura strategia. Utilizzerà quest'arma fino alla sua morte nella battaglia di Rassan, parliamo del Legends ragazzi in questo caso, utilizzerà quest'arma fino a quella famosa battaglia perché effettivamente lui diceva una cosa, è un'arma rara, è un'arma che è difficile da impugnare, ma se sei un maestro di quest'arma è imprevedibile. Ti trovi davanti i Jedi, abituati che si allenano contro la spada doppia lama, la spada laser normale, non sono pronti a difendersi da una frusta laser. E quindi questo Sith era micidiale. Sul campo di battaglia riusciva a sconfiggere i suoi nemici, a ghermirli, aveva un enorme potere con quest'arma, unica ed eccezionale, che poi sarà replicata anche dall'Ordine Jedi. Ma è un'arma che usano molto anche le sorelle della notte di Datomir. È tutto con magari delle differenze, perché vengono chiamate erroneamente spada laser, anche delle fruste elettriche che più o meno, attraverso elettricità, attraverso per l'appunto plasma e contenitori e campi energetici per contenere il plasma utilizzano una stessa meccanica. Vengono chiamate così, non sono esattamente spade laser, perché le spade laser hanno un kyber crystal all'interno. Però la metodologia è la stessa, è identica. Questo a dimostrare che in Star Wars, ripetiamolo ancora una volta, esistono da sempre le fruste laser, più o meno simili, più o meno conosciute. E se l'avesse usata, non Vernester Roe in questo trailer, ma il Sith, sarebbe stato molto più affascinante, perché ripetiamolo, tira più un pelo di Sith che un carro di Jedi, tuttavia sarebbe stato forse qualcosa di già visto. Perché? Perché ogni volta che c'è un'arma nuova e figa, la doppia lama è Darth Maul ad usarla, un Sith. Quando c'è la tripla lama, chiamiamola così, poi la spada con lo sfiatatoio di Kylo Ren a guardia medevale, la prima volta che la usa è Kylo Ren, un adepto del lato scuro. Se questa volta fosse arrivato il nuovo presunto Sith e non Vernester Roe con la spada laser e la frusta, avremmo avuto di nuovo un Sith con un'arma speciale, cosa che nel Legends c'era. Invece nel canon, adesso l'attuale maestra di quest'arte con la spada laser e la frusta è Vernester Roe e io sono curioso di vederla. Obiettivamente, lo ammetto di nuovo, la frusta è qualcosa che non incontra il mio piacere, non l'ha mai incontrato in 39 anni che esiste, in 32 anni che esisto io, quindi che alla fine seguo Star Wars, ma poi ho recuperato quello vecchio, quindi le storie di 39 anni fa hanno avuto modo di inserirlo più e più volte, non ha mai incontrato il mio favore, potrebbe incontrarlo ora. Se non lo farà, ne parleremo man mano che usciranno gli episodi durante le mie recensioni, ma come sempre questo era un video per parlare, per dire se effettivamente le critiche sono giuste o no ed effettivamente in questo caso non sono giuste, a meno che soggettivamente non mi diciate ok, a me non piace, e allora sono d'accordo con te, se a te non piace personalmente sono perfettamente d'accordo, se invece mi dite che non ha senso di esistere, beh, Star Wars, la storia di Star Wars dice esattamente l'opposto, ma lasciami un feed e scrivimi qui sotto cosa ne pensi della spada laser a Frusta, se guarderai Veacolite oppure no, e come sempre lascia un bel mi piace e che alla forza sia con te. Grazie a tutti i nostri spettatori